Ciao a tutti, Perinelli Forniture di Peschiera del Garda a Verona, vi presenta il martello rotativo della Makita, l'HR 2470. Arriva in valigia rigida, all'interno trovate il martello che ha tre possibilità, solo rotativo, battente rotativo e solo battente. Premendo qua si ha la possibilità di fare le regolazioni, reversibile con questa leva, l'innesto è l'SDS+, diciamo quello piccolino, impugnatura, interruttore elettronico, quindi si può regolare la velocità, il suo cavo e l'asta di profondità per la foratura.